I secondi passano, i primi restano. Quale sarà il miglior spot del 2001? Paolo Boronis con Victoria Silvstedt presenta la settima edizione del Galà della Pubblicità. Con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesca Dell'Era, Cesare Cremonini, Luciana Litizzetto, Feel Good Productions, Danny Quinn, Sister Rat, Francesco Totti, Eva Erzigova, Ego Rosario Fiorello. Galà della Pubblicità. Domani sera alle 21 su Canale 5. Capomamma, Capitan Fingus, Murena, si segue sulla rotta dei Merluzzi. Agganciato, vai sulla rotta dei Merluzzi migliori. Non scoprirà mai il nostro segreto. E ora, Murena, si cambia rotta. Sì! Ecco i bastoncini del Capitano, croccanti e bianchi come piacciono a voi. Due. La carta del Capitano, no, no, no. Cremoso, cioccolato. Twins! Questione di Teams. Twins! Questione di Teams. La carta igienica Scottex è cambiata Adesso ha uno spessore e una consistenza Che vi sorprenderanno al tatto E alla vista Nuova carta igienica Scottex Dove morbidezza e consistenza si incontrano Ma dove sono le pagine utili? Forse sono sul mio comodino di Siancolletto Devono essere vicino allo stereo Ieri cercavo il numero di un fioraio Lo sapevo, non ti si buttano una cosa che la perdi subito Ma se ieri l'ho trovata in bagno, cosa cercavi un fidanzato? Jacopo Tranquilli, sono in buone mani Volevo solo regalarvi un cucciolo Per addolcirvi Va, uno per uno no? Di cuccioli? Ma no, di pagine utili Pagine utili Chi le trova? Trova tutto Anche un po' di serenità Facci una babbata Solo con sottilette classiche Kraft Ogni ricetta diventa magia Sottilette Kraft Fa sempre la differenza No, parto e mi viene l'influenza Contro raffreddore, febbre e dolori Honey Cold Lipi Gels La rapidità della forma liquida nella comodità della capsula Honey Cold Lipi Gels Rapido contro l'influenza senza sonnolenza È medicinale leggere i fogli illustrativi Che devono usare sotto i 6 anni In Citroën In Citroën arriva un'ondata di offerte con le euro follie Ad esempio, per passare a Xara Supervalutiamo fino a 6 milioni di lire Pari a 3.099 euro Il tuo usato che vale zero E paghi da maggio 2002 Un orco divertente Un asino parlante E il nostro fantastico mondo Un 20 magnifiche film card Mulino bianco Una in ogni pacco Ragazzi, collezionateli tutte Se trovate quella con la scritta Hai vinto Una delle 20.000 videocassette di Shrek È vostra Guardate sulle confezioni Dove c'è Shrek C'è dentro una film card Da mulino bianco